Eder, Mech, Pallister Marco e Gabriele Bianchi, imputati nel processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, sono stati condannati a 24 anni di carcere rispetto all'ergastolo deciso in primo grado. La Corte d'Appello di Roma, con le motivazioni della sentenza, ha spiegato i motivi per cui ai due fratelli è stata concessa l'attenuante generica e quindi la riduzione della pena. I giudici hanno considerato che Marco e Gabriele Bianchi non avevano partecipato alla lite iniziale, che era stata accesa dagli altri imputati, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Nei fatti ricostruiti durante la sentenza, viene evidenziata la condotta violenta tenuta da tutti i quattro imputati, che hanno colpito ripetutamente Willy con calci, pugni e calci alla testa. Si è ritenuto che la lite fosse già iniziata prima dell'arrivo dei fratelli Bianchi, il che costituisce un attenuante, dato che i due erano del tutto estranei al contrasto iniziale e che la condotta degli imputati si è esaurita in un breve lasso di tempo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!